Presidente Sebastiani, vittoria sfumata nel finale, due punti nelle ultime due partite, Pescara rallenta però il terzo posto resta alla portata. Ma sì, dobbiamo vincere le partite che restano, che saranno tutte come questa qui, cioè partite nelle quali devi cercare di andare in vantaggio come era successo oggi, ma poi di non gestire niente perché noi non siamo una squadra che può gestire, quindi devi continuare a fare il tuo gioco e cercare di fare anche il secondo gol. Una partita difficile questa col Pontedera, come tutte, anche la gara di oggi ha dimostrato che partite facili in questo campionato non esistono, Presidente. Ma infatti questo è un girone molto equilibrato, è un girone dove abbiamo visto che il Cesena vinceva a fermo, poi era andato sotto di un gol e poi alla fine era pareggiata, quindi in queste ultime partite sono tutte partite molto molto difficili e delicate, per cui bisogna essere concentrati fino alla fine e poi vedremo, alla fine tireremo la somma. Presidente, quattro gare al termine, insomma ci sono ancora le possibilità di acciuffare questa terza piazza, però bisogna provare a vincerle tutte, bisogna iniziare a farlo possibilmente già da domenica a Lucca. Bisogna vincere Paolo, hai detto bene tu, bisogna vincerle tutte perché ce l'abbiamo la possibilità di farlo, però bisogna essere un po' più concreti e cercare meno la giocata qualche volta ed essere più concreti. Quando si arriva al limite dell'area è inutile cercare, soprattutto con le difese chiuse, così è inutile cercare la giocata, l'ultima palla. Si tira, si prova a tirare. Presidente, lasciando il calcio giocato, nelle prossime ore potrebbe arrivare questo deferimento di cui tanto si parla, però i giorni passano e qui non si sa ancora nulla di definito. Lei ha qualche notizia a proposito? No, non abbiamo nessuna notizia, ma come ho sempre detto non abbiamo nemmeno questa grande preoccupazione perché noi le operazioni le abbiamo fatte tutte in maniera corretta, giusta, abbiamo incassato soldi, a differenza l'abbiamo pagato, per cui se si parla di operazioni baciate le nostre non sono assolutamente baciate. E soprattutto se poi qualcuno vuole sindacare sui valori dei giocatori, cioè se io non posso vendere un giocatore a un milione dove mi danno soldi, allora vuol dire che a questo punto devo smettere pure di fare il Presidente, al di là del fatto che mi ha intenzione di smettere, ma devo smettere anche per quest'altro motivo, perché vuol dire che qualcun altro deve venire poi qui e fare anche la società, decidere quando vale un giocatore, quando venderlo, quando acquistarlo. Voi avete deciso di non essere ascoltati dalla Procura Federale? Ma non dobbiamo essere ascoltati, noi abbiamo preparato le carte, abbiamo preparato le nostre memorie, ma quando ci chiameranno saremo lì a far valere i nostri diritti, perché dobbiamo essere ascoltati. Notizie invece sul fronte societario, Presidente, questa trattativa prosegue, a che punto è? Ci potranno essere novità a breve? Speriamo di sì, speriamo di sì, ma credo che entro una trentina di giorni ci saranno delle novità e spero prima di tutto per me che siano positiva. Spera, quindi ci potrebbe essere qualche problema, qualche rallentamento? Ma no, perché purtroppo non è che in questo mondo, in questo momento, ci sono tanti altri problemi per tante persone rispetto all'acquisto di una società, quindi bisogna avere pazienza, è importante che ci sia la volontà da parte di qualcuno di acquistare il Pescara e quindi se c'è da aspettare, aspettiamo, non succede nulla. Quindi novità per fine aprile, primi di maggio? Me lo auguro, me lo auguro sinceramente.